No, perché in realtà le ho raccontate a questa mia mamma. Cioè, tu e tua madre le raccontate? Sì, ma io a mia mamma racconto praticamente tutto. Quando le ho raccontate a mia mamma, mia mamma mi fa Ma scusa, io ho una domanda. Ma io sapevo che le cose a tre, di base, gli uomini piace farlo con due donne. Perché tu lo vuoi fare con Simone? Questa storia inizia nel... Non diamo troppe informazioni di date, così perché non mi va. Comunque si parla di due anni fa. Due anni ti sono passati. Estate, più o meno. Io e Jody eravamo un periodo dove, come ho già detto, eravamo insomma... Entrambi single. Entrambi single, chiaramente. Quindi era un periodo un po' di nostra follia, dove ci eravamo un po' imbattuti nel mondo delle serate, eccetera. Quindi ci siamo trovati in questo contesto. Ed era un periodo dove io... Era successo una sera che, in maniera molto casuale, ero andato a letto con una ragazza. Ok? Ero andato a letto con una ragazza, ed era una ragazza che... Comunque... Io avevo puntato. Lui aveva puntato. Io come al solito... Avevo puntato da un po' di tempo, appunto perché essendo nel giro delle serate e tutto quanto, io l'avevo puntata. Ma l'avevo puntata nel senso che tipo... Mi piaceva proprio, no? Mi piaceva. Cioè, a volte quando lo vedevo a misterio, dicevo, zio, comunque quella è veramente figa. Poi mi sembra proprio dolce e tutto quanto. Io ovviamente, carattere misterioso, rubacuori, avevo... E l'ho riuscito, appunto, a... A concludere. A concludere. E mi ricordo che quella notte, io, dal telefono di questa ragazza, ho mandato tipo un audio a Jody. Io ero a Zurigo. Lui era a Zurigo. Ho mandato un audio a Jody dal suo telefono, in cui dico, oh, zio, ciao, eh. Come stai? Sono qua con lei. Sì, simpatica lei, eh. Sì, simpatica. Jody. Alle sette del mattino, io, prima cosa che ho fatto, quando mi sono svegliato alle nove e mezza a Zurigo, perché la sera prima ero andato a vedere Ed Sheeran a Zurigo, la chiamo, e lei fa, pronto? Un po' già ridendo, perché fa, ciao. E mi fa, ciao, Jody, faccio... Ma sei con Simo? Sì, però adesso in doccia, una roba del genere. È difficile che ne faccia una doccia. No, o ha detto adesso in doccia, oppure era già tornata a casa, e lei ha detto, ah, sì, era già tornata a casa, e lei ha detto, io faccio tutto bene, e lei fa, sì, sì, tutto bene, dai, tu, e io, bene, vabbè, ciao, ciao. Cioè, non ne abbiamo proprio parlato, ok? Esatto. Settimana dopo, settimana dopo, io e Jody andiamo in discoteca insieme a far serata, come due bravi single, c'è questa ragazza, c'è questa ragazza, ma non sono infame, non è che l'amava, mi frega un cazzo. Anche perché in realtà, diciamola tutta, in quel periodo mi stavo frequentando, mi stavo frequentando con un'altra ragazza, no, non fare così, comunque, era una ragazza in cui... Periodo dove non esisteva frequentazione, diciamo, parevo... No, lo so, però, però, di base... Diciamo che era una delle illuse, dai. Però questa ragazza qua, lo dico perché forse è un passaggio che ti perdi, quella sera stessa, in discoteca, mi aveva proprio detto, mi sono rotta il cazzo del fatto che tu non vuoi prendere una decisione con me, non ti sbilanci mai, ho trovato una persona che mi vuole veramente bene, quindi fa un culo. E quella sera là, in realtà, sono stato scaricato, di base. Ok. Cosa succede? Andiamo a ballare e io becco questa ragazza, no? Dopo qualche giorno. Dopo qualche giorno. La becco e, comunque, nella mia testa ho detto, vabbè, siamo qua, io comunque, ero passato in pochi giorni da quel giorno. Sto visualizzando la situazione. Anche io, sì, fa troppo ridere. Sì. Allora, becco questa ragazza, la vedo e dico, vabbè, molto probabilmente, stanotte magari le chiedo se vuole tornare con me, no? Cioè, non so, era già successo, quindi era anche più semplice per me, anche per lei, comunque, andare comunque, magari era già andata, magari c'era la voglia, che cazzo ne so, no? Allora, vado da lei e... No, vado da Jody e Jody, ovviamente, tipo, la guardava da lontano così. Ma no, ma ero anche triste. Sì, ci sbatti perso. Io sono completamente impazzito. Vado da lei e dico, ma completamente, mi ero un po' ubriaco. Con me, tra l'altro? No, 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 da solo. Ok, da solo. Io vado da lei e dico, oh, ma vuoi fare una cosa a tre con Jody? Mi immagino una ragazza, una ragazza che gli arriva Grimbaud, tutto alto, tutto così, che gli chiede, vuoi fare una cosa a tre con me e Jody? Ma perché a me la faceva pena? Era lì che piangeva in angolino. Io, ma quasi, io quando glielo ho chiesto, sono, ma non te l'ho mai detta. Io quando glielo ho chiesto, era un gesto di amicizia, zio. Perché a me facevi pena? Perché io ti guardavo lì nell'angolino così, eri tutto triste, e io quasi per gag. Lui ho detto, vuoi fare una cosa a tre con Jody? Ma così, vuoi per dire, boh, ma quindi l'hai buttata lì? Ma sì, ma completamente a caso. Ho detto, ma sì, glielo chiedo. E mi guarda e mi fa... Ma, perché no? Bellissimo, bellissimo! Io, io, io tipo, boh, io in quel momento credo di non aver mai corso nella mia vita in discoteca, minchia, corro da Jody, tutto, vado a Jody con zio, zio, posso fare una cosa a tre? Ma dai, ma che cazzo, ti giuro, glielo ho chiesto, zio, ma hai detto di sì, è follia, non ci posso credere. Guardate con lei, mi dice il nome. Tra l'altro, parentesi, ah no. Sì, vabbè, parentesi, tu tanto stavi piangendo per un'altra tipo con cui ho visticato quella sera, ti ricordi? No. Ha fatto stacchi, io vado da Jody, tutto, tutto contento, dico, zio, l'ha accettato, non ci posso credere. Lui, ovviamente, quasi in lacrime. E niente, cosa succede? No, io, tra l'altro... No, quando me l'ha detto, ragazzi, immaginatevi, mia crush da mesi da quando abbiamo iniziato a fare le serate pazze. Una con cui comunque passavamo le serate, quindi scherzavamo tutti quanti, però non era mai stato, cioè non c'era mai stato nessun tipo di approccio sotto quel punto di vista. Mi arriva lui e mi dice, oh, ha accettato di fare una cosa a tre con noi. Follia, cioè, io ho detto... Ma poi, tra l'altro, io... Cioè, io sono andato anche un po' in panico, ho detto... No, ma io nella mia testa gli ho detto, oh, Cristo Dio, che palle. Cioè, vengato. Io volevo chiamarmela da solo, di un modo. Ho detto, minchia, oh, che Gody, vabbè. Ok. Niente, here we go again. Cosa succede? Andiamo a casa. Su, va. Non era mai successo nella mia vita, vado sempre a casa mia, perché mi gioia il cazzo. Aperta parentesi. C'era una. Mica andremo a casa solo noi tre. C'era anche l'amica di lei. L'amica di lei che non era inclusa nella cosa. Però sapeva benissimo che stavamo andando lì per fare quello. All'amica di lei ho aperto il divano letto in soggiorno e gli ho detto, vai qua, toh. Allora, allora cosa succede? Entriamo a casa, ma era veramente strano il mood, perché c'era questa amica qua che era lì tipo, vabbè, questi stanno per fare un oggi. C'è come dire? È vero. Ma tranquillissima, eh. Che ha visto i gatti e ha fatto ciao. Ciao, ciao. E noi, vabbè, andiamo con questa ragazza con la presteata. Andiamo a farci idea. No, non è vero. Sì, è una pulitina. Vabbè, così sembra che siamo andati a puttane. Dai, zio, su. Ma tu non ti lavi prima di fare... Sì, ok, non mi ricordo, non è rilevante a specificare se ci siamo lavati. No, però io mi ricordo che proprio c'è stata la... Guarda, qua c'è il letto, qua ci sono le coperte, bisogna di qualcosa? No, grazie, ciao. E noi ci siamo chiusi in camera. Noi ci siamo chiusi in camera. Ah, è vero, sì, ci siamo chiusi in camera. Ah, perché lei stava parlando con la sua amica e noi tipo, zio, cosa facciamo? Eh sì, cosa vuoi fare? Arriva, arriva il momento. La ragazza entra in camera, dai, tu diciamo io, Jody e questa ragazza qua. Si sdraia. Jody, me lo ricordo, così che si stava... Sì, sì, sì. Jody era tipo così, mezzo... Si stava mezzo per spogliare. Io visto che comunque questa ragazza già la conoscevo e c'era già del feeling. Io stavo sistemando camera. Io stavo sistemando camera, così. Io lei cominciamo a limonare, no? E io, io, poi conto, lui, lui sdraiato sul letto con la tipa così, e io che mettevo a posto le cose, no? Mettevo via le felpe, cioè, e io facevo, ma raga, Cristo Dio, cioè, non iniziate senza di me. Dio che cringe, ragazzi, che cringe. Non iniziate senza di me, è terribile. Comunque, sì. Non cringiatevi, non cringiatevi. E loro, loro iniziano a limonare. Lui, ragazzi, vi descrivo quello che vedevo io. Lei, ragazza molto bella, proprio, che ci piaceva entrambi, lui con la canotta in mutande, canottiera, così. Sì, 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 no, veramente. Vabbè, ok. Infatti, c'è un momento in cui lei, tipo, mentre limoniamo, mi guarda e fa, dai, leva la canotta. Sì. Gli ha detto, leva la canotta, mi ricordo. Che però non era mentre limonavate, era mentre eravamo già. Io, ovviamente, in sicurezza massima, ovviamente, non è... Mamma, sei veramente in chat? Vabbè, fa niente. Vabbè, può essere. Comunque, devo fumare perché adesso arriva il momento forte. Arriva Jody. Arriva Jody. Spap, Goof, uscite tutti, vi prego, perché adesso sta arrivando un momento terribile. Arriva Jody. Arriva Jody e si unisce, insomma, al contesto. Ovviamente tutto, tutto protetto, tutto eccetera. Fortunatamente, essendo la seconda volta, in un modo o nell'altro abbiamo, eravamo... Sapevamo già cosa si aspettava. Sapevamo già cosa si aspettava, quindi comunque non abbiamo avuto problemi erettivi, ok? Ovviamente io non ci siamo mai sfiorati neanche spontaneamente. Però comunque ormai eravamo tipo in quel mood lì e sti cazzi, no? Quindi non ci sono stati problemi di quel tipo. Il problema. Lui. Ovvero. Lui continuava a prendermi per il culo. Nel senso, lui è uno che, a differenza mia, gli piace il dirty talking. Gli piace parlare. E visto che sta roba qua prima, cioè in generale, come si chiacchiera tra amici, abbiamo sempre parlato che a lui piace fare sta roba e a me no. Lui memava di questa roba, quindi sparava tipo puttanato, tipo... Dai zio, sì, s*****e la faccia. Fermo. Vieni qua, vieni qua. Io ovviamente... Io ovviamente a disagissimo, no? Tipo zio, stai zitto, dio bollo. No, 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 no. E lui continuava a memare, a dire puttanato, ma tipo ridendo, diceva tipo, ah, mi guardava, cioè, volevo che io ridessi, ma perché... No, dicevo, no, no, ecco. E dicevo anche, ti piace, eh. Ti piace? Ti piace, sì. Lei è tipo, come un poverso, tipo, zitto, gritto. Cioè, e lui rideva, ma c'era troppo lì, perché lui, che dico, se lui diceva, guardandomi gli occhi, come per dire, dai, oh, sono simpatico, sono simpatico. Aspetta, aspetta, tutti che ridono, e c'è, Nizmida, che scrive, quando Mida. Nizmida. Fra poco, Nizmida, fra poco. Allora, va avanti, mi chiede, alla fase finale muoiono tutti a ridere. Allora, va avanti, va avanti, immaginate questa situazione dove è molto ironica, non so come dire, cioè, è un gioco. Allora, immaginatevi che questo rapporto va avanti, con scene molto divertenti, come la tour Eiffel, la posizione della tour Eiffel. Cazzo. A un certo punto, verso la fine tua, ci siamo messi nella posizione della tour Eiffel. Cioè, la tour Eiffel, dammi il 5. Ah, sì, è vero, è vero, è vero. Ok, capito, c'era vero. Ci siamo fatti il 5, eh? Penso di sì, così per il meno. Però... Vabbè, proprio maschilista, estrema, il 5, diciamo lo sesso. Vabbè, comunque. Io estremo femminista, eh. No, 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 ma anche no, ma infatti. Anzi, vi diremo poi quanto in realtà è stata femminista questa cosa. No, no, ma tra l'altro, lo dico, è stata lei a portare a letto a noi. Questo lo posso vedere di piacetto. È vero, è stata lei a portare a letto a noi. Noi siamo dei disagiati quella sera. Quindi, gg per lei. Sì. E... Vabbè, immaginatevi che va avanti, insomma, questa cosa qua e va avanti con gag, meme. Lui che continua a dire, sì, ti piace, eh, sì. E lei, tipo, che era disagiata. Sì, anche lei non voleva che parlassi. Non voleva che parlassi. Lui continua a parlare per far ridere meno, che era una gag. Arriviamo al momento... Al momento della fine. Durante la tour Eiffel, Simone mi guarda, mentre si muove, fa... Zio, io... Basta. Cioè, io sto finendo. Sto per arrivare all'eiaculazione. Ok? Jody prende atto di ciò e io nel mentre finisco. Senza darvi tutti i dettagli finisco. Ah, ovviamente... Protetto al 100%. Per tutto protetto. Per qualunque cosa, esatto. Finisco. Cos'è che fate voi quando finite di... Quando... Nel momento in cui è arrivata l'eiaculazione? Basta. Cioè, sti gatti mi fa schifo la figa, no? Cioè, io prendo e mi sdraio. Ma anche lei era tipo, basta te. Sì, 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 finito, basta, no? Prendi, ti sdrai. Allora è stato molto piacevole, perché io ho finito, ho detto così. Mi sdraio e vedo la scena di loro due che continuano, perché mancava lui, no? Quindi io mi sdraio e mi godo così un po', proprio quasi come fosse un po'... Mi godo la scena. Problema. No, nessun problema. È che lei, certo, la cosa è che lei ha detto, ok, uno è fatto. Adesso è il momento di far veloce e finire anche con l'altro. Posso dirla io alla parte finale, ti prego. Sì, sì, sì. Quindi immaginate una ragazza... Preparatevi, eh. Una ragazza bellissima, non bella come Chiara, ma bellissima, che si gira, come mamma l'ha fatta, e mi guarda dicendo, come vuoi che mi metta? Lo guardi, ma io ero lì proprio spettatore passivo di questa cosa, e vedo lei proprio tutta... Ma anche bella eccitata, no? Guarda Jodie e fa... Come vuoi che mi metta ora? Proprio così, tipo aprendo le gambe, come vuoi che mi metta ora? Jodie, in quel momento, si piega. Appena finita la frase, quindi immaginatevi la scena. Io rappresento Jodie, eh. Lei si gira... Madonna, io vi giuro. Lei si gira. Che posizione vuoi fare ora? Cosa p***o ora? Immaginatevi la scena di io che guardo questa cosa e vedo Jodie così, tipo, su di lei, tipo, così, tutto tremolante, che tipo cerca di baciarla sul collo, così per recitare lei, tipo, tutta mezza schifata. Ho detto, no, ma io non ci credo di quello che sto vedendo. E poi la cosa è, tipo, finita con... Io completamente, i lacrime da ridere, cioè, io stavo piangendo da ridere. Jodie, perché ti sei spostato? Che non vuoi apparire... Non volevo essere in questa parte. E quindi, vabbè, ho raccontato quello che hai detto, Cristo. No, no, io potrei anche dissociarmi a quello che hai detto, eh. Ti dissocii? Sì, sì, sì. E quindi, niente, poi è finita la roba, abbiamo dormito insieme, sì. Sì, ma la cosa, per dirvi quanto è stata femminista la cosa, noi ci siamo addormentati subito, perché ovviamente lei non era da vaccino, addormentati subito, ci siamo svegliati la mattina e lei non c'era più. Sì, 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 ha preso le chiave e sono andata via, per easy. Sì, sì. Vabbè, che cazzo, ha fatto del senso con noi. Ha voluto fare una roba, l'ha fatta, sti cazzo, ha fatto bene. E sapete qual è la cosa più bella di tutto questo? È che con lei non c'è praticamente mai stato più nessun tipo di imbarazzo. Zero, 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 zero. Poi mi è capitato di rivederla anche dal vivo, non spesso. Una volta ne abbiamo parlato e ci abbiamo anche scherzato tutti. Sì, 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 forse eravamo in macchina così, ci avevamo scherzato sopra proprio in maniera simpatica. No, ma infatti è stata una roba alla fine, cioè io mi sono divertito, lei si è divertita, tu ti sei divertito, non abbiamo fatto male a nessuno. Non abbiamo fatto male a nessuno, sti cazzi. Cioè ci sono questi problemi della vita, ragazzi. Esatto, esatto. Sensibilizzate le cose a tre. Non è che stai sensibilizzando, vabbè, basti cazzi, sensibilizziamo. No, però è vero, è vero, è vero, assolutamente. Non è il problema. Non abbiamo fatto niente di male e anzi, ragazzi, è sempre un'esperienza. Non è una cosa eccitante. L'amica non l'abbiamo vista, però ha sentito tutto. Ha sentito tutto, sì. Tutto. Secondo me l'amica è stata traumatizzata di là. Beh, conoscendola anche un minimo, sapendo chi è, è un pochino sì. Quando l'ho raccontata mia mamma. Come? No, perché in realtà l'ho raccontata questa mia mamma. Cioè tu e tua madre le racconta? Sì, ma io a mia mamma racconto praticamente tutto. Quando ho raccontato mia mamma, mia mamma mi fa, ma scusa, io ho una domanda. Ma io sapevo che le cose a tre, di base, gli uomini piace farlo con due donne. Perché tu lo vuoi fare con Simone?